Buona serata a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, vi ringrazio per chi mi ha seguito in live, per la live che abbiamo vissuto insieme per Udinese e Juventus, allora Udinese 0, Juventus 2, importantissimo andare alla sosta con 8 vittorie consecutive in campionato, contando anche le 2 di Champions, 10 vittorie consecutive tra campionato e Champions League, ottimo risultato, ottima partenza sicuramente. a mille la parte da Juventus, ho visto anche comunque in queste prime giornate un'ottima condizione fisica rispetto agli anni passati, ci sono stati infortuni sì ma molto inferiori rispetto agli anni passati per il momento, speriamo che non ci siano, forse il discorso di Vinovo poi tanto sciocchezza non era, vedremo più avanti, comunque bisognerà tirare le conclusioni come sempre a fine stagione. Allora ragazzi, allora intanto Cristiano Ronaldo ve l'ha messo super il culo a tutti quelli che lo stanno difamando, infamando, quello che volete, ve l'ha messo un'altra volta super il culo, grande, cioè grande, buona partita di Ronaldo, bel gol, ottimo gol perché coordinazione perfetta e sapeva già che gli arrivava lì e doveva tirarla lì. Ho la sensazione che Ronaldo ora come ora fa i gol più istintivi, cioè quando gli arriva la palla lui tira di prima e fa gol, se invece deve pensarci troppe volte sbaglia perché comunque appunto anche lui è umano, cambia squadra, cambia paese, un po' di pressione in più ce le ha ovviamente per quello che ha fatto in questi nove anni e quindi ci sta insomma che faccia qualche errore di troppo o che comunque anche la Real Madrid sbagliava. Bon, detto questo, allora partita primo tempo ottimo, primo tempo ottimo, l'unica cosa che mi sento di criticare è il poco cinismo che abbiamo avuto perché potevamo essere sopra anche di più di due gol e questa cosa qui poi ci ha pesato un po' nel secondo tempo perché di fatto abbiamo rischiato tre volte di prendere il gol e poi ragazzi una volta preso il gol le partite, come vi dico sempre, le partite non le hai mai in tasca, nemmeno sopra i tre o quattro gol, non le hai mai in tasca perché può esserci un episodio, un fattore che cambia tutto. Quindi lì anche lì, Chiellini ha fatto un'ottima partita però ho sbagliato su quel salvataggio poi di Alexandro, che anche lì Alexandro ha fatto invece una partita di merda a parte quel salvataggio lì, quindi vabbè, vabbè. Per il resto partita buona, possesso di palla e pallino del gioco che abbiamo sempre avuto noi praticamente, ottimo fraseggio, l'unica, ecco, vabbè, abbiamo avuto, parecchie palle e gol che potevamo appunto concretizzare di più. L'unica cosa è che mi sento comunque di criticare Pjanic perché purtroppo Pjanic, come vi dicevo, vi dicevo qualche giorno fa, quando tu devi rallentare il gioco, Pjanic non è l'uomo giusto perché infatti, poi l'ha levato anche al posto mettendo Barzagli appunto, perché non ha i ritmi e quando gli dici addormenta la partita si addormenta lui e quindi perde pallone, sbaglia passaggi facili, non è il suo compito quello, fa il suo compitino, non è, poi ha sbagliato una verticalizzazione per Bernardeschi in contropiede allucinante, facilissimo, a dieci metri, basta passargliela un po' più forte e la palla gli arriva sulla corsa e va in gol praticamente va. Poi Ronaldo ha sbagliato un altro gol, Manzuki ce ne ha sbagliato uno nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo rallentato un po' troppo il gioco, un po' troppo anche la pressione, l'agonismo che comunque era ovvio calare un po', era ovvio anche concedere un po' all'Udinese, non mi è dispiaciuta la Juventus di per sé, non mi è dispiaciuta, bisogna secondo me gestire le partite in maniera diversa quando non ce n'hai più, più che altro, perché non puoi far gestire la palla agli altri quando non ce n'hai più, perché ti fanno correre di più e di fatto poi non hai di più ancora di più, ok? Scusate, gioco i parole, quindi lì bisogna migliorare, per questo dico che Pianice purtroppo non è un giocatore che ti fa, che ti detta i tempi quando tu devi ralentare e addormentare nella partita, ok? Per il resto il migliore in campo secondo me oggi è Paolo Di Bala, ha fatto delle ottime cose, ha avuto delle ottime iniziative, dribbling che non vedevo da un bel po', personalità che non vedevo da un bel po', ha sbagliato un gol che ha fatto tutto lui, poi il tiro a giro è andato sul quarto anello, però vabbè, per il resto ha fatto un'ottima partita, il Mandzukic non mi era piaciuto fino al gol di Ronaldo, perché lì ha fatto una bella protezione in palla, un bel assist, un bel passaggio indietro, e poi da lì si è sbloccato mentalmente, ha fatto un'ottima partita, una buona partita, però a me dispiace dirlo ancora, però non voglio vedere un attaccante rincorrere i giocatori avversari fino alla difesa nostra, ok? Che oggi ci poteva stare perché eri sopra i due gol e dovevi anche in un qualche modo difendere, ecco, l'unica cosa che mi sento dire anche in maniera positiva rispetto agli anni passati è che comunque sopra i due gol difendiamo, ma non in maniera così accanita come negli anni passati, cioè difendiamo se c'è da difendere, assolutamente, rischiamo poco, però una volta recuperato il pallone non lo spaziamo subito su, ma cerchiamo comunque di uscire palla al piede ogni tanto anche rischiando parecchio, però cerchiamo di creare un'altra azione offensiva quando ripartiamo e questa è una cosa buona, una cosa molto positiva, che soprattutto in Europa ti potrà dare una mano questa mentalità, questo nuovo cambiamento, diciamo. Emre John non mi è piaciuto, ecco, oggi, lui non mi è piaciuto per come è entrato in partita rispetto alle altre volte, perché le altre volte mi è sempre piaciuto, questa volta un po' meno, ecco. Bentancur ha fatto un'ottima partita, a parte il gol ha fatto un'ottima partita oggi, assolutamente, buona partita, ottima, non grandissima, però comunque ha fatto una partita buona, e questo sta diluiamo intanto, per il resto Bernardeschi è entrato bene stavolta rispetto alla partita precedente, Cancelo, vabbè, Cancelo, gli manca solo il gol, anche oggi ha avuto abbastanza sfortuna, ma, chiamiamola così, anche se a me non piace parlare di sfortuna nel calcio, come sapete, doppia deviazione, traversa, a Cancelo gli manca il gol, l'unica cosa è che ha rischiato parecchie volte a livello difensivo, che voleva per forza fare la giocata, ogni tanto spazzarla via, non fa male, poi ci sta che la maggior parte delle volte tu voglia uscire a palla al piede, ma non sempre, anche quando sei circondato a tre giocatori e non vedi movimento, ecco, la cosa che non mi è piaciuta oggi nel secondo tempo è che a un certo punto non vedevo più movimento, c'era quello con il possesso, col pallone praticamente, e come sempre, come spesso accade, accadeva negli anni passati, quest'anno un po' meno, i giocatori davanti non facevano movimento, l'unico che fa costantemente movimento è Ronaldo, cioè Ronaldo, nonostante sia marcato da tre, quattro giocatori a partita, trova comunque sempre i tempi per smarcarsi, è una cosa mostruosa, infatti sul gol sbagliato, che gli era tirato addosso Scufè, è stato bravo a smarcarsi, ma tante altre volte. Per il resto, partita, ripeto, gestita bene, buona partita, ok, è normale ragazzi comunque concedere qualcosa, bisogna comunque sfruttare di più prima, perché magari sul 3-0 loro non hanno, non trovano più quella voglia, quella cattiveria o quel coraggio di tentare comunque di fare il gol per riaprire la partita, perché comunque sul 3-0 magari mentalmente escono totalmente da partita, per questo dico che bisogna essere più cinici, perché se tu concretizzi di più, distruggi l'avversario mentalmente anche, non solo sul piano tecnico. Cessni deve imparare a uscire di più, sui calci d'angolo e sui calci di punizione che la mettiamo in mezzo, a me dà fastidio Boia, che Mangiuk, che Cecchellini facciano e commettano sempre falli, perché lì interrompi un'azione offensiva di fatto. Alessandro non mi è piaciuto, Alessandro ha fatto quel salvataggio, però oggi veramente ha fatto caga, a me non è piaciuto, non è piaciuto, cioè a lui gli do 5-5 e mezzo, non mi è piaciuto, a parte il salvataggio sulla linea, ok, puoi dargli il 6, ma è difficile dare un mezzo voto in più, un voto in più per un salvataggio quando ha fatto totalmente cagare, nel primo tempo era praticamente, chi mi ha seguito in live lo sa, l'ho detto, nel primo tempo sembrava un giocatore in più per l'Udinese, vabbè. Questo è quanto ragazzi, non penso di aggiungere altro, sono contento per la vittoria, 10 vittorie su 10 tra il campionato e il Champions League, ma è accaduto nella nostra storia a partire dagli anni 30, se non sbaglio, vabbè. 8 vittorie consecutive in campionato, 24 punti su 24, non si poteva andare a sosta meglio di così, ecco. Adesso possiamo rilassarci, guardare le altre partite delle altre squadre con più tranquillità, senza pensare di guffare una in particolare. Niente ragazzi, buona serata a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus, ci vediamo al prossimo video. E Ronaldo ve l'ha messo in culo, ok? Parlate, sparlate di noi, una settimana di fango, una settimana di fango, una settimana di fango che ci avete buttato adosso, a noi e a Ronaldo, ok? L'Udinese, ok? Non è una squadra, però una settimana di fango abbiamo vinto contro il Napoli, contro lo Young Boys e oggi a Udine, che non era per niente facile. Purtroppo lo Juventino deve mettersi nell'ottica che se sei Juventino questa merda la devi purtroppo prendere, perché questa è la merda dell'invidia, questa è la merda dell'invidia, ok? E noi gli invidiosi li inculiamo a maggio, soprattutto.